L'anniversario della Repubblica di Cina, Taiwan, l'anniversario della presenza e della rappresentanza diplomatica di Taiwan a Roma. Taiwan non è mai stata sotto la sovranità della Repubblica Popolare Cinese, mai nella sua storia. Noi riteniamo inviolabile il territorio di Taiwan, in ogni circostanza. Il territorio si intende anche tra l'altro lo spazio.